un secondino così intanto avete anche il tempo di connettervi dovremmo essere live come state? come è andato il vostro pomeriggio? qua caldissimo caldo 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 molto molto caliente ho anticipato un pochettino la diretta perché preferisco prendermi del tempo poi per andare a camminare e vi dirò anche gestire al meglio la cena dei miei figli a volte arrivo sempre un po' tirata fa troppo caldo e quindi ho deciso di anticipare un pochettino la diretta alle 18 allora cosa andiamo a fare? andiamo a cucinare se ne dite intanto vi insegno una cosa bellissima è ora di finirla di accendere griglie e forno per le melanzane perché non so se lo sapevate ma le melanzane si possono anche fare al vapore sì 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 avete capito bene cosa andiamo a fare questa sera? andiamo a fare degli involtini di melanzane e adesso vi insegno proprio come cuocere le melanzane al vapore che ve lo dico fidatevi vi cambierà la vita involtini di melanzane con gamberoni ok? allora ovviamente sto usando dei gamberoni congelati non ho avuto modo né tempo di comprarli voi lo sapete per chi mi segue da un po' che io ho sempre un frigo e un freezer abbastanza organizzato e quindi avevo dei gamberoni in freezer che ho semplicemente decongelato ovviamente con il giusto passaggio in frigorifero quindi io li ho tirati fuori dal freezer stamattina li ho lasciati coperti tutto il giorno in frigorifero con una pellicola e loro si sono decongelati ciao Barbara ciao anche ai ragazzi di Facebook quindi cosa vado a fare? vado semplicemente a mostrarvi come fare questi involtini di melanzane ai gamberoni però senza utilizzare la griglia o il forno che di solito si usa per preparare le melanzane allora partiamo dai gamberoni ok? io li faccio veramente molto velocemente è una ricetta che mi piace molto e vi consiglio di riproporla se potete semplicemente padella antiaderente sul fuoco vado a scaldare un pochino di olio extravergine di oliva anche del burro chiarificato se vi piace il sapore del burro nei vostri gamberoni e subito praticamente vado a mettere i miei gamberoni all'interno della mia padella non vado a far scaldare l'olio vado a mettere tutto a freddo così che ovviamente non vado a friggere cosa faccio per dare un po' di spinta ai miei gamberoni vado a lavorare subitissimo con un po' di aglio in polvere andava benissimo anche dell'aglio fresco magari fritato o tagliato a pezzettini questo dà meno fastidio a tutti quindi spesso anche al ristorante preferisco usare dell'aglio essiccato e macinato e poi vado già a mettere della paprika o del pepe o del peperoncino non vado a mettere sale perché adesso vi mostro per quale motivo e nel frattempo alzo un pochettino la fiamma di modo che piano piano prendano calore eccetera non guardate i miei piedi da distante so che si vede ma sono scalda perché fa troppo caldo oggi sono da sola qui in cucina e quindi mi sono tolta le scarpe per stare più comoda ok? allora come vedete gamberoni già puliti e viscerati decongelati oggi vado semplicemente in una padella antiaderente molto velocemente a metterli con un po' di olio extravergine di oliva un po' di paprika o peperoncino o pepe un po' di aglio e vado semplicemente a spadellarli cosa posso fare? posso andare fra un po' a sfumarli con qualche cosa che dia sapidità, acidità eccetera io li vado a sfumare con della salsa di soia tamari ok? senza glutine perché questa sera ho una persona che viene a fare aperitivo mi viene a trovare ed è celiaca e quindi mi assicuro di utilizzare la salsa di soia che non contiene glutine perché spesso le salse di soia che invece trovate al supermercato ve lo ricordo contengono glutine perché sono spesso fermentate e partono da una base di grano quindi sempre attenzione anche se si pensa che la salsa di soia sia un prodotto senza glutine quindi salsa di soia vado a far saltare i miei gamberoni con un po' di salsa di soia e poi potrai mettere del limone o del brandy o del vino bianco ok? io vado ad utilizzare il succo del limone eccolo qua e quindi utilizzo questo tengo la manina sotto per i semini così sono tranquilla e vado ad aiutarmi con il limone nel frattempo che i miei gamberoni si stufano un attimo in padella ci vuole 5 minuti vi spiego come ho fatto le melantane allora le melantane le ho tagliate a fettine questo è lo spessore ok? non so se si vede in camera comunque saranno fatte conto mezzo centimetro più o meno per capirci tantissime persone cosa fanno? le fanno scolare con del sale grosso 30 minuti quindi tutto molto laborioso tagliano fanno colare con 30 minuti perché si dice che perdano l'amaro eccetera allora le melantane nel mio orto non sono così amare devo essere onesta e quindi non ho bisogno di farle colare e metterle sotto sale quindi io semplicemente le taglio e le cucino come le cucino? come vi dicevo prima le cucino al vapore come al vapore con la vaporiera eccolo qua ve la mostro da microonde quindi semplicemente metto le mie fettine di melantane lo vedete dal video no? sul vassoio della mia vaporiera ovviamente sotto qui c'è l'acqua che ho messo per cuocere a vapore vado a mettere il coperchio e vado a cuocere a vapore in 8 minuti le mie melantane sono pronte vi assicuro che è una figata ne potete fare una montagna non hanno lo stesso sapore della griglia no devo essere onesta ma sono comunque buonissime leggerissime eccezionali il trucchetto sta poi nel come andate a condirle e infatti adesso io vi mostro come condirle al meglio ok quindi melantane cotte al vapore 8 minuti ne potete fare tra l'altro tantissime perché questa vaporiera che ho comprato su Amazon è molto capiente quindi ci stanno anche 2-3 melantane grandi perché quando cuocete al vapore la bellezza è che potete sovrapporre le melantane che vengono comunque benissimo e quindi diciamo che è veramente veloce ed è una figata cosa vado a fare di importante però adesso ok vado a preparare una bella emulsione saporita per le mie melantane come vado a fare questa emulsione mi prendo una ciotolina bianca ok vado a mettere all'interno della ciotolina dell'olio extravergine di oliva sarò generosa con il mio olio extravergine di oliva vado poi a mettere delle erbe aromatiche tritate io qui ho tritato prima prezzemolo basilico e erba cipollina vado a mettere un bel pizzicone di sale marino integrale perché tenete conto che io non le ho ancora salate le mie melantane le vado a salare in questo momento vado a mescolare il tutto con una forchetta adesso ci vado a mettere anche un altro pochettino di olio perché sono stata un pochettino in realtà pensavo di averne messo di più un po' tirchiotta quindi vado a mettere un altro pochettino di olio extravergine di oliva che poi se mi avanza questo battuto lo uso per fare altre mille cose e volendo ma è facoltativo ci potete mettere dell'aglio tritato fresco o come faccio io ancora liofilizzato, essiccato e macinato così si sente meno e quindi non andate ad esagerare e ho fatto una bellissima salsina ve la mostro in video olio, sale, aglio secco macinato e essiccato prezzemolo, basilico, erba cipollina ok? nel frattempo qui per chi si è appena connesso sto cucinando i gamberoni con olio, salsa di soia tamari paprika, aglio e succo di limone null'altro cosa vado a fare? vado a condire le mie meravigliose melanzane al vapore che vi ho appena raccontato come si fanno quindi avete imparato oggi a fare le melanzane al vapore quindi vado a prendere le mie melanzane e mi vado ad aiutare con un pennello e vado semplicemente a condire le mie melanzane con olio battuto che ho fatto semplice ok? niente di che lo posso fare sia da un lato che dall'altro se voglio dipende poi ovviamente per cosa le vado ad utilizzare altrimenti ci metto solo sopra il mio battuto vi assicuro che non hanno veramente niente da invidiare alle mie melanzane fatte alla griglia dove però ci ho messo 45 minuti per farne due e perché ovviamente poi se no si se le fate molto veloce si rimangono crude dentro ma si bruciano fuori quindi si seccano e quindi fanno veramente pena queste al vapore rimangono morbidissime saporitissime non rimangono mai asciutte mai secche sono veramente eccezionali posso usare un pochettino di di olio in meno quindi diciamo che è molto 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 interessante ok? i miei gamberoni secondo me sono cotti andiamo a dare un giretto anche i miei gamberoni ok? vado un attimo ad alzare la temperatura per il rush finale e vado anche visto che ci sono e sto per spegnere il fuoco a mettere della buccia di limone forse da lì non mi vedete più ma ci sto mettendo della buccia di limone sui miei gamberoni ok? che adesso fra un po' andrò ad utilizzare per il mio per i miei involtini quindi ho semplicemente messo della buccia di limone vado anche a mettere un giretto di prezzemolo, basilico e erba cipollina che è quella che ho usato per il mio per le mie melantane e i miei gamberoni adesso ve li mostro così li vedete anche in questa camera perché sto usando due telecamere ve li faccio vedere che sono meravigliosamente pronti ok? e sono fatti quanto? un minuto? no dai cinque minuti su via non esageriamo ok? adesso ve li mostro ok ci siamo vado a spegnere il tutto guardate che meraviglia ok? li vedete? quindi sono semplicemente gamberoni cotti come vi dicevo eccoli qua con le mie melantane al vapore e il battuto fatto al momento ora vi mostro come comporre il piatto che è una stupidaggine ok? cosa vi servirà? la vostra melantana i vostri gamberoni e volendo potete ovviamente chiudere anche se non è bellissimo da vedere mi rendo conto quindi mi sono anche munita di stuzzicadenti più carini eccoli qua potete usare anche uno stuzzichino più carino più piccolino più colorato li fate Vobis come vi piace di più ok? quindi io adesso vado ad utilizzare dei normalissimi stuzzicadenti insomma quelli da Plebea che a me piace moltissimo e va benissimo così vado a prendere la mia melantana eccola qua la vedete cotta al vapore meravigliosa leggera quindi leggerissima ma molto morbida vado a prendere un gamberone e vado proprio ad arrotolare questa è piccolina quindi verrà un portafoglio ok? adesso ne andiamo a fare un'altra così vi mostro magari una un pochettino più grande eccola qua prendiamo il nostro gamberone senza ovviamente scottarsi perché in questo momento sono veramente bollenti e vado a preparare i miei voltini adesso ve li mostro eh mi avvicino in camera se volete se vi fa piacere ovviamente se i gamberoni sono grandi vi consiglio di usare delle melantane un po' più grandine perché così riuscite bene a chiudere ok? che poi la sussicadente devo essere onesta non piace tantissimo siccome rimane molto carino anche senza si può tranquillamente fare senza sono un finger della madonna bellissimo carinissimo e sono veramente buoni perché poi si sente in bocca tutte le erbette fresche si sente il mio prezzemolo si sente il mio basilico si sente la mia erbetta cipollina adesso ve li mostro sono stupendi vi vado proprio a fare un piattino ok? quindi sto semplicemente prendendo i miei le mie fettine di melantane cotte al vapore c'è il ratolo dentro il mio meraviglioso gambero eccolo qua che è ancora bollente e giro su se stesso adesso ve lo mostro che è stupenderrimo allora adesso ve li mostro da vicino perché sono bellissimi vi vado anche poi dite che non sono brava questa sera a comporre un piattino perché ho deciso di comporre un piattino carino perché anche come dicono tantissimi di voi ed è giusto l'occhio vuole la sua parte vi mostro che è carino questo piattino ok? pomodoro dell'orto perché devo dire che sono estremamente fortunata ok? vado a fare una base carina carina con i pomodori di varie misure non importa non siamo a Masterchef chi se ne frega ragazzi al ristorante pensate che spesso per fare comunque un bel impiattamento si buttano quelle cose che non sono precise e a me dispiace sempre tantissimo ok? quindi sempre un po' un peccato a casa questi problemi non li abbiamo grazie a Dio possiamo anche un pochettino utilizzare misure differenti per non buttare via tutto questo ben di Dio ho fatto una base semplice di pomodori ci vado a mettere sopra un po' di sale eccolo qua guardate che piatto carino e poi ditemi che non lo mangereste un goccino di olio quello che ho utilizzato per le mie melanzane quindi quello con la menta il basilico eccetera quindi sale oglietto con il battuto profumato dove c'era anche un po' di aglio e un po' di erbette aromatiche e poi ci vado a mettere sopra i miei meravigliosi involtini di melanzana che sono veramente carinissimi andiamo di prendere quelli un po' più bellini eccolo qua e questo che si è un po' rotta la melanzana e si vede un pochettino il gamberone ed è stupendo ora ve lo mostro da vicino perché merita guardate che carino arrivo arrivo eh lo vedete che bello l'involtino guardate che carino non so se come colori si vede ok eccolo qua anche di qua in questa camera quindi io ho preparato una cena o un finger da quando sono in diretta con voi quindi dieci minuti ok quindi veramente si possono fare delle magie le melantane le melantane cotte così quindi cotte al vapore se volete le potete congelare le potete congelare si congelano benissimo e poi quando le tirate fuori ovviamente magari ripassate un attimo in padella gli date un po' di vita o le scaldate ancora al vapore l'involtino così potete congelarlo uguale solo se ovviamente il gamberone l'avete cotto quindi io in questo momento vi ho spadellato i gamberoni vi ho mostrato come fare e si può proprio congelare anche l'involtino intero quindi non solo le melantane ma l'involtino intero il baba ganoush non so se ne avete mai sentito parlare adesso vedo tantissimi rill che propongono questo baba ganoush che è una salsa buonissima medio orientale a base di melantane al forno salsa tahini quindi la salsa ai semi di sesamo tanto aglio tanto olio tanto prezzemolo buonissima potete provare a farla anche con le melantane al vapore quindi anziché tagliare la melantana e metterla al forno con gli aromi ok e morire dal caldo se volete potete utilizzare la vaporiera che vi ho appena mostrato per il microonde e cucinare le melantane al vapore quindi poi togliete la polpa e vi fate questo meraviglioso baba ganoush ecco questa è la mia ricetta di questa sera avevo voglia di condividerla con voi so che vi fa sempre tantissimo piacere vi ricordo che ci sono gli ultimi quattro posti per le consulenze gratuite vi ho messo i link nelle storie e vi ricordo anche che se vi fa piacere potete acquistare davvero ad un prezzo speciale che è solo 77 euro il pacchetto estate non stress con 10 ore di videocorso quindi fate i conti sono 7 euro per ogni ora di videocorso è regalato ragazzi 7 ore per ogni ora di videocorso perché ci sono 10 ore di videocorso e 5 dispense con più di 20 25 pagine circa ciascuna da scaricare tantissimissime ricette ovviamente parte educativa alimentare eccetera metodo batch cooking e poi c'è tutta un intro stupenda con 4 video e 6 dispense su come affrontare l'organizzazione in cucina io vi aspetto vi ringrazio di aver partecipato a questa diretta e si ragazzi mi state chiedendo se salvo la diretta la salvo quindi se non siete riusciti a vederla adesso perché magari siete appena tornati dal lavoro ma avete voglia di prepararvi la cena tranquilla che è tutto salvato la potete rivedere potete cucinare più tardi vi auguro una meravigliosa serata e ci vediamo prestissimo su questo canale e attraverso la mia news letter buona serata a tutti buona serata a tutti